Portare queste problematiche, questi discorsi, questa chiamiamola lezione, anche se è una lezione non certa universitaria, a dei ragazzi è fondamentale, io lo faccio ormai da un po' di anni, questo appunto per cercare di far capire quali sono, se ci sono, e in parte ci sono, ma dovremmo essere tutti orgogliosi di questo, le differenze fra cervello maschile e cervello femminile. Intanto ringrazio ovviamente la dirigente scolastica dell'Istituto Gemellaro che mi ha voluto invitare, e tutti i ragazzi che erano presenti, numerosissimi, mi era successo solo in un'altra scuola, a Monza, quando erano così numerosi. Siccome sono ragazzi che dovranno cambiare il mondo e avere delle idee più chiare su genere maschile e femminile, non noi, mi sembra importante parlare loro, fargli capire l'importanza dei due fattori che sempre comportano la nostra formazione e identità di uomini e di donne, che sono il nostro patrimonio genetico e l'ambiente in cui viviamo. Non c'è differenza tra il genere maschile e il genere femminile, se non una differenza ovvia, ormonale, eccetera, ma dal punto di vista intellettivo, se differenze ci sono, sono differenze che solo in minima parte sono genetiche, sono differenze più culturali. E quando ovviamente si parla di superiorità e inferiorità sociale, questo deve essere portato a zero. E quindi i ragazzi di qualsiasi classe siano devono crescere con questa idea, uguaglianza.